eh dai vieni vieni dove è il ciccio bombolo sono qui sono qui sono quello che ti sta tirando tutti gli imparabili vieni vieni e che è questa cacciara? beccati questa cacciara beccati questo cacciarone cacciarone e tu? ma va fangolto stuccio ma va a fangolto stuccio ciao nico no non mi doveva attaccare hai fatto un errore madonna guarda ora il gradiatore che ti vuole reanimare guarda vai 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 vai!! pimpadaaaa & pimpadà & pimpadà ciao bello ciao baby ciao e che ti pensi? eh attenzione il dribbling al sedicesimo passa in mezzo passa in... attenzione signori qua c'è il dio di faranade che dà una sfoggia incredibile il dribbling al quattordicesimo minuto ciao